bentornati su my football jersey questa che vedete è la prima maglia della spagna in versione player perché la versione fan l'avevamo già vista peraltro trovate qui in altro la recensione la maglia uguale a quella indossata dai calciatori la maglia home adidas spagna 2022 presenta una base rossa utilizzando il colore team power red come colore secondario viene usato il team navi blu che viene utilizzato per le tre strisce sulle spalle e per il bordo del colletto sul petto a sinistra si trova il nuovo logo della nazionale spagnola per la prima volta in assoluto su una maglia maschile della spagna la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta questo prodotto contiene materiali riciclati al 100 per cento ed è una delle soluzioni di adidas per la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici niente male non è una delle mie preferite e per questo motivo prende solamente tre stelle però devo dire che la versione player è fatta veramente molto meglio a mio avviso in questo caso della versione fan qui in alto vedete il costo che aggiungere veramente molto basso per una maglia fatta benissimo con tutte le rifinitire giuste con tutti i colori azzeccati e messi diciamo le patch attaccate nel modo giusto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e mi raccomando trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete ora prima di lasciarvi la parte finale vi prego di poter mettere un like e iscrivervi al canale per poterci far crescere per avere altre recensioni in futuro per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player